Ma se trovo una cosa a terra poi diventa mia. Prima che ti spieghi le regole generali ti voglio subito chiarire che se tu trovi un bene o un oggetto dal quale si desume o si può desumere chi sia il proprietario e te ne appropri, commetti un furto. Questo succede per esempio quando trovi un portafogli con i documenti dell'interessato, un telefono cellulare con una sim, ma pure se vedi una persona a cui cade qualcosa e aspetti che si allontani per mettertela in saccoccia. In effetti la legge pretende che tu consegni il bene ritrovato al comune che dovrà pubblicare il ritrovamento sull'albo pretorio per due domeniche successive e poi se nei 12 mesi successivi non si presenta nessuno puoi rivendicarne tu la proprietà. Se invece si presenta il proprietario e tu ne hai fatto richiesta puoi richiedere un decimo del valore al proprietario fino a 5 euro e 16 centesimi e superata questa soia sul sovrappiù la ricompensa è di un ventesimo. Che stè?